E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione, sigla! Oh, ed eccoci qua ragazzi, continua la miniserie dedicata al set NECA di 8ful8, oggi abbiamo Bob the Mexican. Eccolo qui nella sua confezione, veramente molto molto stilosa, molto figa, qui sul lato c'è un'immagine di Bob the Mexican, qui sul retro appunto abbiamo un'altra immagine del personaggio del film, qui vedete c'è la sua striscia di sangue che è grigia, qui c'è scritto che è interpretata da Damian Beecher. Sull'altro lato nulla di particolarmente interessante, sulla parte superiore abbiamo la carrozza con la striscia di sangue, sulla parte inferiore di nuovo il titolo 8ful8, il logo NECA e Real Toys. Ma direi di non perdere altro tempo sulla confezione, se voleste acquistare Action Figure c'è come al solito il mio sito Aras Reviews Shop, una scheda lì in alto pure qui sotto in descrizione, andiamo a vedere il nostro Bob the Mexican fuori da essa. Ed ecco qua ragazzi, guardate che figo con tutti i suoi accessori e con tutto il suo pelo di questa pelliccia enorme. Allora misuriamo subito l'altezza, queste figure sono molto alte, tocca praticamente i 20 cm ovvero 8 pollici, eccola qui a paragone con Bonnezza Spider-Man che essendo 7 pollici risulta più basso del nostro Bob the Mexican. Allora ragazzi, come accessori abbiamo prima di tutto questo fantastico coltello fatto molto molto bene, painting argentato sulla lama e il manico è tutto bianco. E' immancabile naturalmente il suo revolver, eccolo qui anche questo molto molto ben realizzato con questo painting gun metal su questa parte e poi invece il manico ha il painting nero. E adesso andiamo a vedere il nostro Bob più nel dettaglio, ecco qui il viso veramente molto molto ben realizzato, somiglia tantissimo all'attore nel film, ha anche un occhio chiuso, un'espressione abbastanza tipica e ha anche il suo cappello molto molto grande che purtroppo non è rimovibile. Vediamo che è dotato di questa pelliccia enorme ragazzi ma anche la sottoveste è veramente ben fatta. Naturalmente adesso andremo a rimuovere la pelliccia e vedremo più nel dettaglio cosa c'è al di sotto, però guardate qua che figata ragazzi la realizzazione, ha persino il cappuccio qui. Ed eccolo qua senza la pelliccia, guardate che spettacolo questo outfit con questo gilet, qui ci sono anche queste stampe, i bottoni che sono di questo verde metallizzato. C'è anche vedete la camicia sottostante, questo pezzo è tutto uno, quindi il gilet è attaccato alla camicia. Anche questa sciarpetta è rimovibile, fatta veramente benissimo, ricamata in lana sembra. Vediamo che qui ha il suo cinturone ragazzi dove naturalmente è possibile inserire il revolver senza alcun tipo di problema. Purtroppo non ha un fodero per il coltello ma ho visto una cosa fighissima, ovvero che queste tasche sono vere tasche. E quindi il coltello volendo si potrebbe riporre qui all'interno. Questo grembiule anche è rimovibile, vedete sul retro c'è questo nodo, però non rimuoviamo anche questo altrimenti diventa un casino poi da riannodare. E qui vediamo anche questi pantaloni, se non sbaglio si chiama fustagno, questo tipo di tessuto veramente fantastici. E anche gli stivali, guardate qua che figata la realizzazione con questo effetto pelle dato dal painting, veramente fantastico. E anche tutti i dettagli sono magnifici, c'è anche il painting qui a tutte le fibbie ragazzi, veramente spettacolare. Queste figo, ripeto, sono dei veri e propri piccoli capolavori. Vediamo adesso le articolazioni del nostro Bob, la testa può andare verso l'alto fino a qui, il movimento verso il basso è quasi nullo per via della barba. Può ruotare lateralmente, vedete in questo modo può anche muoversi lateralmente in questo modo. Il braccio può alzarsi in questo modo a più di 90 gradi. C'è il movimento del braccio a 360 gradi quasi, impedito semplicemente dal fatto che questo è un vestito appunto in stoffa. C'è la rotazione qui al bicipite, l'articolazione singola qui al gomito, rotazione qui al polso e anche il piegamento su cerniera. A mezzo busso non sembra esserci piegamento, però c'è la rotazione ovviamente. E la gamba può andare, vedete, in avanti praticamente a 90 gradi senza alcun tipo di problema, può andare anche all'indietro. C'è l'apertura laterale fino a qui, c'è anche la rotazione qui alla parte superiore. L'articolazione, vedete, è singola al ginocchio, questa qui è un po' limitata per via dello scalp e dello stivale. Poi abbiamo il piegamento del piede, questo qui è molto limitato, il movimento è semplicemente questo. Per il resto non c'è alcuna rotazione al piede. E allora ragazzi, la mia recensione di questo Bob the Mexican finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa figura, fatemi sapere se vi piace il personaggio anche nel film. Lasciate il like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete anche condividerlo. Se foste interessati a questo set che ormai è esaurito perché ho controllato dal fornitore rispetto all'ultima volta, non c'è più purtroppo. Fatemi sapere, magari riesco a procurarvelo. Però purtroppo ragazzi queste figure si vendono solo in set, tutte e otto insieme. Comunque grazie a tutti per la visione, ciao da Bob the Mexican e collezionate sempre!